Pensiamo che su questa provincia, al di là delle vicende di carattere nazionale riguardo il mondo del lavoro, siamo arrivati quasi in fondo, cioè si è toccato il fondo, perché ci sono situazioni di crisi nel settore metalmeccanico e potrebbero divenire delle soluzioni non positive per i lavoratori, una su tutte esaote, aziende che se non trovano acquirenti troveranno i lavoratori praticamente sulla strada. Noi vogliamo portare all'attenzione di chi governa questa regione, di chi governa questa provincia, che ci devano dare una mano. Andrete avanti comunque anche senza le altre sigle sindacali? Sì, noi abbiamo un mandato, io come segretario generale della Fiume di Firenze ho mandato dal mio gruppo dirigente, naturalmente di trovare un compromesso, una soluzione unitaria con Fiume Wilme, ma se da questo non lo troviamo, lo dico in anticipo, noi come Fiume andremo sicuramente allo sciopero in provincia di Firenze. I dati Istat parlano di un 44,2% di disoccupazione giovanile, giovani che quando magari un lavoro ce l'avevano era senz'altro precario, il sindacato che cosa fa per tutelare loro? Noi abbiamo provato a organizzarli, non ci siamo riusciti, bisogna ripensare anche il modo con cui li rappresentiamo, intanto al nostro interno bisognerebbe che questi lavoratori nel momento in cui entrano nelle imprese siano presi in cario da un punto di vista sindacale dalle categorie che seguono quelle imprese e così non è perché vengano rappresentati come una sorta di lavoratori di passaggio. Esatto, e quindi io credo che bisognerebbe modificare la nostra struttura organizzativa e la rappresentanza, ma se a questo non si accompagna anche una politica del governo che dice sono per togliere le 46 forme di precarietà, sono per mettere il contratto a totali crescenti, ma se il contratto a totali crescenti diventa la 47esima non ne abbiamo bisogno e se invece diventa la prima forma di assunzione, contratto a totali crescenti significa allungare semplicemente il periodo di prova, se c'è una tutela recente in fondo la tutela ci deve essere, se no la presa è in giro.